Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste e Madre Mia, Vengo sui tuoi ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti cosa spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel Regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo Regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana Regina, te mi affido, finché guidi i miei passi nel Regno del Volere Divino e stretto alla tua mano materna. Guiderai tutto l'essere mio finché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farei la mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal Regno Suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Vieni, Divina Volontà. Vieni, Divina Volontà. E ordina in me il tuo voler, Divina Volontà. Tu è l'ora della nostra morte. Vieni, divina volontà, vieni, divina volontà, riversami il dono nella tua vita. Divina volontà, vieni, divina volontà, vieni, divina volontà, divina volontà. Divina volontà, vieni, divina volontà, vieni, divina volontà, divina volontà. Non toccheranno la terra. Amarezze di Gesù, il filo elettrico. Stavo secondo il mio solito, tutta immersa in quel Fiat divino che, più che sole, splende nella povera anima mia. Ed il mio sempre amabile Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto. Figlia mia, sarà tale e tanto il mio amore verso i figli della mia volontà, che non permetterò che toccheranno la terra. Stenderò i miei passi sotto i loro piedi, affinché se camminano, toccano i passi miei e non la terra. In modo da sentirsi la vita dei miei passi, i quali comunicheranno la vita dei passi del mio volere divino ai passi dei figli della mia volontà. Se operano, sentiranno il tocco delle mie opere che, schierandosi, comunicheranno loro le virtù della mia volontà. E lo comunicheranno alle loro opere. Se parlano, se pensano, sentiranno la vita delle mie parole e dei miei pensieri. Che investendoli comunicheranno loro la virtù del mio Fiat. Alla mente e alle parole. Sicché sarò io stesso il portatore dei figli del mio volere, sarò tanto geloso che nulla tocchino, affinché di nulla prendano parte e sentano la vita mia scorrere continuamente in loro e che forma nella loro la vita dell'eterno volere. Perciò essi saranno le opere più belle delle mie mani creatrici. Oh, come si speccherà in loro l'opera della creazione! E saranno il trionfo della mia redenzione. Tutto trionferà in essi. Quindi allora potrò dire che le mie opere sono compiute. Prenderò riposo in mezzo ai figli del mio Fiat Supremo. Onde dopo aver scritto ciò che sta scritto in questi giorni passati, la mia povera mente era molestata da timori e dubbi ancora. Forse non era vero che Gesù benedetto mi aveva detto tante cose, ma piuttosto era nel frutto della mia immaginazione. Dicevo tra me, se non è stato Gesù che mi ha parlato, saranno scritti senza vita. Perché solo quando parla Gesù corre la vita nella sua parola. Ed io scrivendo vi resto la vita delle verità che lui ha detto, in modo che chi le leggerà sentirà la virtù comunicativa di una vita che si infonde e si sentirà trasformato nella vita della verità che leggerà. Invece se non è Gesù, saranno scritti senza vita, svuotati di luce e di beni. Ed a che pro fare il sacrificio di scrivere? Ora, mentre a ciò pensavo, il mio dolce Gesù è uscito da dentro, il mio interno, e mettendo la sua testa vicino alla mia, ed atteggiandosi a mestizia, mi ha detto. Figlia mia tua, ma reggi la mia festa, perché quando io manifesto una verità, lo faccio perché voglio festeggiare con la creatura, e se lei non mi presta piena fiducia e si mette in dubbio, la festa viene spezzata e si converte in amarezze. Io faccio come due intimi amici, uno di quali, amando assai l'amico, vuole svuotare nel cuore dell'amico ciò che esso contiene, e mentre gli affida i suoi segreti, le sue gioie nascoste, lo mette a giorno di ciò che possiede. L'amico che sente mostra di non crederlo e si mette in dubbio di ciò che l'amico gli sta dicendo. Questo tale amareggia, quindi l'amico, e converte il suo sfogo in amarezze, e il primo dolendosi, quasi si pente del suo affidamento, e pieno di amarezze si ritira. Invece, se l'amico lo crede, non solo non lo amareggia, ma prende parte ai beni suoi e festeggiano insieme le gioie che l'amico possiede, e la loro amicizia resta vincolata con doppi vincoli di amore. Tale sono io, anzi, più che amico, amando assai con lei coeretta per la mia piccola segretaria. Voglio svuotare il mio cuore ed affidare a lei i miei segreti, le mie gioie, i miei nascosti dolori, le mie verità sorprendenti. Per festeggiare insieme e comunicarle tante vite divine, quante verità le vado manifestando. Se vedo che lei mi crede, io festeggio e metto fuori ed infesta le gioie, la felicità che può possedere una vita divina che possiede l'infinità di tutti i beni, e l'anima resta riempita e festeggia insieme con me. Ma se la vedo titubante, resto amareggiato, e lei resta vuota della vita che vorrei affidarle, tu spesso me le ripeti queste scene di sfiducia, perciò sia attenta a non voler convertire le mie gioie in amarezze. Io sono rimasta tutta confusa e non ho saputo che rispondere. Dopo ciò seguivo il mio giro nel volere divino ed il mio dolce Gesù ha soggiunto. Figlia mia, come l'anima entra nel mio volere, così vi mette il suo filo elettrico e il quale cammina fin dove si vuole formare la luce. Perché la luce non viene formata dove si mette il filo, ma dove finisce, accentrando l'elettricità della luce in una lampadina. Ora, la volontà umana, come entra nella mia, ai riflessi del sole del mio Fiat, si converte in luce e vi forma la sua piccola luce. E l'elettricità della mia volontà allunga il filo della volontà umana e forma la sua piccola luce più che lampadina elettrica, fin dove l'anima vorrebbe giungere innanzi a Dio, il quale, vedendo la piccola luce della volontà umana, la investe e con l'elettricità della sua luce divina la converte in sole e vi forma il più bello ornamento del suo trono divino. È pur bello e dilettevole il vedere che l'anima, dalla terra come entra nel mio volere divino, si mette il suo filo elettrico per il cielo e si allunga tanto che vi giunge fino nel suo centro che è Dio e vi forma il suo parato di luce e queste luci convertite in sole. Bene, anche questa mattina abbiamo tre punti e quindi tre spunti di meditazione ben distinti in questa lezione di Gesù. e ci entriamo subito perché sono differentemente belli. Sul primo per la verità ci sarebbe molto da riflettere e meditare perché Gesù dice delle cose veramente belle e queste cose voglia il cielo che non rimangano pie idee o peggio ancora pie illusioni quindi qualche cosa destinato a rimanere incantevole per il suo fascino e per la sua bellezza ma distante dalla nostra vita. Gesù fa delle affermazioni meravigliose. Dice Sarà tale tanto il mio amore verso i figli della mia volontà che non permetterò che tocchino la terra. Evidente, no? Questa è un'espressione figurata, simbolica non è che nessuno di noi deve immaginarsi che cammina 10 centimetri, no? E Gesù però spiega stenderò i miei passi sotto i loro piedi affinché se camminano toccano i passi miei non la terra in modo da sentirsi la vita dei miei passi i quali comunicheranno la vita dei passi del mio volere divino ai passi dei figli della mia volontà. Attenzione! Cominciamo a dire subito una cosa che i piedi nella letteratura spirituale cattolica negli autori a partire già dai padri comunque gli autori spirituali gli scrittori ecclesiastici gli autori di spiritualità si sono sempre interrogati perché le membra del corpo i sensi del corpo sono sempre figure simbologie di alcune cose che ci sono dentro di noi e come si capisce che cosa simboleggiano? Basta fare attenzione a quello che il determinato arto fa per esempio con le mani noi facciamo le cose quindi le mani sono il simbolo dell'operatività quindi le mani in senso spirituale cosa sono? Sono le opere che noi facciamo che non sono soltanto materiali quindi non sono soltanto le opere manuali anzi molti di noi io per esempio i manuali sono un disastro totale ma le opere tutto quello che noi facciamo con i piedi noi camminiamo camminiamo per quale motivo? ogni volta che noi muoviamo i passi è perché vogliamo andare da qualche parte quindi abbiamo in mente un luogo da raggiungere con i nostri piedi con questo sì anche mi sposto dalla cucina che vado in bagno perché lo faccio? perché avverto la necessità di andare in bagno i piedi si muovono e mi portano al bagno d'accordo? ecco quindi è ciò che è il movente è ciò che ci muove verso il fine questa è una cosa fondamentale vuol dire fuori di metafora che piedi che non toccano la terra significa che in tutto quello che fanno non hanno mai ma mai di vista motivazioni fini umani ma sempre divini e sopranaturali sappiamo bene che torniamo all'esempio un pochino molto feriale molto banale di prima andare al bagno secondo noi possiamo andare al bagno confine soprannaturale ma che dico al bagno dobbiamo andarci punto e basta insomma no? eh certo che dobbiamo andarci punto e basta ci mancherebbe e non è certamente un luogo dove si compiono cose nobili abbiamo questa mortificazione questa omiliazione no? fino a quando siamo in questo mondo in paradiso i bagni non esistono perché non c'è più bisogno di utilizzarli non c'è più questa miseria legata alla nostra condizione umana però attenzione noi qui andiamo e al bagno diciamo così perché il nostro corpo è fatto in un certo modo perché ci sono delle leggi biologiche fisiologiche di vita per cui in un certo senso anche compiere questo gesto noi lo possiamo fare in obbedienza la divina volontà cioè io vado come dire capite il processo no? vado non semplicemente per liberarmi da una fastidio e da una necessità naturale che se no mi sbrigo insomma vengo mortificato ancora di più ecco con scene che è meglio non descrivere no? ma perché in questo mondo c'è questa mortificazione c'è questa miseria e io vado la accetto come volontà di Dio questo è proprio un esempio come dire basso 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 no? ma questo per far capire come anche nelle azioni più comuni si può compierle con i piedi che non camminano per terra quindi ricordiamo tutte quante i primi insegnamenti dei primi volumi di Gesù quante volte parla di queste cose quanto sono importanti no? cosa muove le nostre azioni guardate questo non se lo chiede quasi nessuno e per essere un figlio della divina volontà degno di questo nome noi queste cose ce le dobbiamo chiedere perché cioè ma quali piedi che non toccano per terra cioè come fa a mettere Gesù i suoi piedi sotto i nostri quando i nostri non solo che toccano per terra ma sono proprio infangati infangati cioè le motivazioni profonde del nostro agire sono più che terrene basse piccine piccole io non mi stancherò mai di dire torna su te stesso quando hai fatto una cosa specialmente quando è una cosa non tanto per la quale chiediti profondamente ma io perché ho fatto questa cosa cosa è che realmente mi ha mosso cosa è che realmente mi muore cosa ho fatto cosa stavo cercando se nel nostro cuore c'è la sincera volontà perché poi non è tanto facile agire in questo modo ma se c'è la sincerissima volontà e questo si vede per esempio quando se io faccio una stupidaggine se io faccio una cosa dove non c'è niente di sopranaturale torno su me stesso lo riconosco ne soffro me ne pento non vado a cercare le giustificazioni di quello che ho fatto come sempre facciamo come sempre l'umana volontà fa cerca di giustificare davanti a se stessa anzitutto perché la coscienza sotto sotto la rimprovera che c'era qualche buona motivazione per fare quella cosa prosegue Gesù se operano sentiranno il tocco delle mie opere se parlano se pensano sentiranno la vita delle mie parole e dei miei pensieri che investendoli li comunicheranno la virtù del mio figlio attalamente alle parole è chiaro che cioè facciamo ancora un esempio per far capire perché io spero sempre proprio lo spirito santo perché tante volte io avverto che anche la funzione di una persona che condivide l'alta voce una meditazione come sto facendo io non è tanto semplice perché non sono mica tanto sicuro che riesco a trasmettere a far capire quello che che mi sembra di di capire per questo che faccio qualche esempio sperando che possa essere utile allora può mai d'accordo sentirsi la vita di un pensiero di Gesù se io faccio un pensiero cattivo sul prossimo un pensiero maligno ieri sera ho fatto una catechesi sul giudizio temerario quanti se ne fanno ma è chiaro che questo non esiste no cioè è blasfemo solo pensarlo a una cosa di questo genere ecco perché prima del ventiquattresimo volume questo ogni tanto bisogna ricordarlo ci sono i primi dieci volumi cioè se la nostra vita già non ha avuto una sterzata se non siamo diventati capaci come dire almeno di controllare un po' o quantomeno di accorgerci quando stiamo sbarellando e questo diventa rimane un capito come faccio se io dico una parolaccia o una volgarità o un insulto a qualcuno ma può Gesù far sentire la vita delle sue parole in questa cosa che sto dicendo ma non è possibile no allora San Paolo ecco qui abbiamo regno della redenzione quindi nuovo testamento cosa dice nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca se nessuna parola cattiva esce più dalla mia bocca allora certamente chiamando richiamando fondendo nella divina volontà questa cosa può diventare realtà non uno scherzo e tu la sentirai la vita delle parole di Gesù sono delle percezioni non è che succede chissà che o chissà che cosa tutte queste cose di cui Gesù parla si avvertono come riverberi interiori come dice Santa Teresa purtroppo nelle cose spirituali c'è una legge ingrata cioè se tu lo cominci a vivere o l'hai vissuto capisci benissimo se non l'hai vissuto mai quindi non ne hai esperienza non ci capisci niente non c'è niente da fare che Santa Teresa ti vada a descrivere che cos'è un rapimento lei te lo descrive in modo tale che una persona intelligente come dire più o meno si fa un'idea di cosa succede ad un'anima quando subisce il termine giusto perché il rapimento è una cosa che fa Dio senza la creatura quando subisce è un rapimento ma se tu non l'hai mai vissuto non potrai mai capire bene che cos'è un rapimento se lo vivi capirai bene mi spiegano ecco e quindi Gesù vuole che noi ci mettiamo in condizione di poter diventare come lui dice sarò io stesso il portatore dei figli del mio volere e sarò tanto geloso che nulla tocchino affinché di nulla prendano parte e sentano la mia vita scorrere continuamente in loro che formano in loro la vita dell'eterno volere chiaro che questo diventa realtà nella misura in cui in noi c'è un lavorio diuturno costante certamente almeno per quanto mi riguarda non possiamo pensare che almeno mi sembra una cosa un po' troppo grande che ininterrottamente stiamo messi così però possiamo provarci dobbiamo provarci quindi capiamo come questa vita questo mondo perché questa è la santità delle santità come come la chiama Gesù no? perché se tu se tu ci vuoi entrare c'è un lavorio proprio costante continuo quotidiano da fare sempre in tanta pace senza mai scoraggiarsi senza mai angustiarsi senza come dire senza stupirsi di eventuali cadute che si fanno certo le cadute si fanno però poi ci si rialza con calma ecco senza senza depressioni però il lavoro continuo c'è noi non possiamo permetterci di fare come dire una vita deposciata una vita sregolata cioè di metterci a pensare a qualunque cosa metterci a parlare di qualunque cosa metterci a fare qualunque cosa e agire distinto senza chiedere ma che sto facendo perché sto facendo questa cosa e poi pretendere che la divina volontà sia in noi come piede come mano come opera come pensiero non sarà però questa non è un'utopia perché Gesù non parla di cose cioè semplicemente per dire come dire un sogno perché Gesù non parla dei sogni noi possiamo fare qualche santo sogno qui per carità la nostra devozione particolare il nostro amore ce ne può far fare quanti ne vogliamo di sogni però questo non è un sogno Gesù se qui ne parla vuol dire questa è una cosa possibile è certo perché per renderla possibile cooperando con la grazia ci vuole anche che ci mettiamo del nostro ecco la seconda parte della meditazione diciamo che è principalmente destinata alle anime chiamiamole così tra virgolette elette predilette dal Signore cioè quelle che divengono destinatarie di doni soprannaturali magnifici e e personali riservati cioè a me non mi è apparso Gesù adesso a me penso anche a voi insomma no facendomi una lezione privata sulla divina volontà dice poi scrivila che la rendi pubblica no cioè per carità lo ringrazio infinitamente che mi ha messo a contatto con quelle pubbliche quindi in maniera ordinaria però certamente Luisa queste cose le ha vissute non è che non le ha vissute le ha vissute quindi comincia a dire ma se non era Gesù ma se questo se quell'altro allora che cosa succede questo adesso lo applichiamo anzitutto a un'anima di questa portata poi però facciamo evidentemente anche l'ampliamento alle condizioni e alle circostanze ordinarie cioè è una cosa che viene da Dio il fatto che un'anima che comincia ad avere presunti doni o esperienze mistico soprannaturali dubiti di se stessa d'accordo e dubiti della loro provenienza anzi è un ottimo segno se un'anima le capita qualcosa che potrebbe essere annoperabile tra queste e subito gli dà credito già questo è un pessimo segno pessimo ma detta di tutti i maestri di spirito quindi il pensiero ma ti pare che il nostro signore viene da me a farmi queste cose di per sé è un pensiero ottimo ecco è solo che qui stiamo al volume ventiquattresimo quindi il signore gradisce questi pensieri ottimi così ci umiliamo magari ne parliamo al padre spirituale eccetera eccetera non corriamo il rischio di cadere nell'illusione spirituale né nei lacci del diavolo facciamo tutte le verifiche tutte le acque sante di questo mondo eccetera eccetera ecco però poi arriva un momento in cui il signore accredita le sue opere quindi certamente la fede non viene tolta mai in questo mondo la fede non sarà tolta mai mai ma qualunque esperienza soprannaturale uno possa avere ci sarà sempre un atto di fede da fare questo proprio mettiamocelo bene in testa quindi la sicurezza al cento per cento che è vero non ce l'avrai mai a sicurezza al cento per cento intesa anche qui ne ho parlato un pochino ieri sera no in ultima catechesi che ho fatto cioè come la scienza galileiana cioè che 2 più 2 fa 4 ecco dovrai sempre fare un atto di fede ecco però quell'atto di fede Gesù se l'aspetta perché una volta che ti ha dato motivazioni per ritenere attendibile quello che ti sta accadendo la diffidenza a quel punto diventa colpa diventa colpa e amareggia il cuore di Gesù fino al punto che lui può decidere io me ne vado io me ne vado può succedere allora in chiave ordinaria nei nostri come dire anche nei nostri percorsi di vita di fede ordinaria quando ci capita qualche cosa ecco non sul piano soprannaturale per esempio facciamo un esempio e entriamo in contatto che ne so con i messaggi provenienti da un'apparizione pubblica della Madonna ok non è che noi qualunque cosa che ci si capita davanti possiamo subito dargli credito al 100% siamo liberi fino a quando la chiesa non si pronuncia in un modo o in un altro abbiamo la libertà perché insomma non è che abbiamo ciuccio in bocca insomma no dobbiamo averci la balia dovunque di orizzontarci allora se il Signore te le fa arrivare e magari supponiamo come queste cose sono vere che cosa succederà ti metterà in condizioni di acquisire una serie di elementi che ti portino privatamente nel tuo cuore a concludere e a formulare un giudizio di attendibilità sì come queste cose appaiono attendibili ecco una volta che si è formulato questo giudizio certo a meno che non accada un fatto come dire strato sferico che ne so tipo che da quella da quella sorgente di apparizione viene detto un'elesia grossa quanto una casa per dire no adesso devo cercare di spiegarmi lo do per buono d'accordo lo do per buono certamente come come di più come qualche cosa che corrobora che fortifica la mia fede divina e cattolica che si fonda evidentemente sulla liberazione pubblica e sulla dottrina e l'insegnamento autentico e ufficiale della chiesa però sono doni sono grazie no e Gesù è contento che uno le acquisisca perché? perché nel corso della storia ne ha fatte una montagna di queste cose di liberazioni private riconosciute se le fa vuol dire che vuole fare dei doni e è contento che qualcuno si li prende e non è contento che qualcuno li respinga nemmeno si deve né si può essere creduloni nel senso che si creda la prima cosa che uno ascolta ma non si può nemmeno essere come sono alcuni che qualunque a regolazione privata non voglio manco sentire e questo non va bene questo qui perché incorriamo appunto nel dare amarezza al cuore di Gesù perché se Gesù la dà una rivelazione privata la concede manda la Madonna in un posto oppure parla lui attraverso qualcuno è perché nella sua sapienza sa che quella cosa è utile quanto meno o forse addirittura necessaria per la conversione alla santificazione di qualcuno e quindi dobbiamo adoperarla quindi diciamo che per la vita ordinaria questo è un discorso che può essere utile per fare discernimento non sulle grazie straordinarie che ci capitano direttamente ma su quando entriamo in contatto con qualcosa ecco che capita ad altri ma che potrebbe avere questo crisma l'ultima cosa ecco un'altra immagine molto bella fatta da Gesù il filo elettrico il filo elettrico quando si entra nel divino volere davvero si fa come un impianto elettrico i nostri impianti elettrici di casa come sappiamo c'è appunto un impianto elettrico che è collegato all'Enel quindi alla cabina dell'Enel la quale a sua volta è collegata alla centrale dell'Enel quindi ci sono un pochino di passaggi dal quadro elettrico partono proprio i fili che circolano dentro casa e che arrivano alle prese dove si attacca la spina e si accende la lampadina oppure se è un lampadario sappiamo queste cose ora come mai la lampadina si accende i fili elettrici non sono nient'altro che collegamenti perché la lampadina si accende perché alla centrale dell'energia parte l'energia d'accordo e c'è il filo quindi che cosa consente qui è un po' complicato per noi perché c'è il filo che va dalla presa all'impianto elettrico poi c'è i fili più grossi che vanno dall'impianto elettrico alla cabina dell'Enel poi i fili più grossi che vanno dalla cabina dell'Enel alla centrale dell'Enel poi alla sorgente stessa della quindi però facciamo finta che ne fosse uno solo perché tanto alla fine sono collegamenti ma conta il polo di partenza e il polo di invio e poi il punto di partenza e il punto di arrivo quello che dice Gesù quindi la luce non viene formata dove si mette il filo cioè non è che la luce si accende lungo tutti quanti i chilometri di ricavi che portano la corrente elettrogasa si accende sulla lampadina che sta sulla mia scrivania o che sta sul mio covodino cioè dove? in noi ecco la volontà umana come entra nella mia ai riflessi del sole del Fiat del mio Fiat si converte in luce e vi forma la sua piccola luce ora però attenzione attenzione e chiudiamo quanto questo è una variante su quello che abbiamo detto perché la lampadina si è accesa cioè la divina volontà splenda come piccolo sole nella nostra vita che cosa dobbiamo curare dobbiamo curare il filo se il filo si taglia se il filo non è di buona qualità se il filo sta sfilacciato la luce non ci arriva in camera nostra e che cos'è il filo? questa è una domanda retorica è tutto quello che noi facciamo e torniamo da dove siamo partiti no? oggi può Gesù camminare sotto sotto i piedi di desideri e di intenzioni completamente balorde? no non ci cammina ecco quindi tutto quello che noi facciamo per fare la divina volontà e tutto quello che noi facciamo per vivere nella divina volontà forma il filo e quindi se il filo è di buona qualità e non ci sono interruzioni la luce arriva se ogni tanto faccio qualche blackout quindi me ne parto per la tangente la luce si spegne ecco noi dovremmo puntare a non avere la luce accesa per 7 ore al giorno 8 ore al giorno che già sarebbe tanto ma dovremmo avere come il sole sappiamo che il sole non si spegne mai cioè da noi arriva la notte non perché il sole si spegne questo lo sanno tutti ma perché la terra si gira e va dalla parte opposta rispetto al sole ma il sole non si spegne mai ecco così le lampadine delle nostre anime fuse con la divina volontà non si dovrebbero spegnere mai H24 anche di notte dovremmo rimanere fusi con la divina volontà ecco perché si fanno gli atti di fusione spero che tutti rifacciano anche prima di andare a dormire perché anche in quell'attività per quanto inconscia può e può e deve essere viva e operante la divina volontà e deve essere viva ti chiediamo Santa Vergine Maria ecco con tutto il cuore di aiutarci a soprannaturalizzare tutte le nostre azioni in modo tale che facilmente Gesù entri dentro tutto ciò che pensiamo operiamo desideriamo verso tutto ciò verso cui tendiamo nelle nostre intenzioni nelle nostre opere nelle nostre parole nei nostri pensieri e ci stacchi completamente ecco da tutto ciò che è terra confidiamo ecco crediamo fermamente che queste sono cose che possono succedere e ti chiediamo con tutto il cuore che succedano nella nostra vita e diventino vita della nostra vita e il cuore del nostro cuore è la divina volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen ti benedico per aiutarti ti benedico per difenderti ti benedico per perdonarti ti benedico per liberarti da ogni male ti benedico per consolarti ti benedico per farti santo ti benedico dunque è la divina volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen Fiat Ave Maria